Una lavata di spugne in piena regola che di fatto toglie dalla graticola dell'inchiesta spese pazze diversi tra deputati ed ex deputati arse. Il ricorso presentato dalla procura e respinto dalla Corte di Cassazione segna anche la definitiva soluzione per cinque parlamentari regionali, prosciolti in precedenza da tutti i capi d'accusa. Nel dettaglio si tratta di Nunzio Cappadona, Marianna Caronia, Nicola D'Agostino, Francesco Musotto e Paolo Ruggirello. Per altri sei, Giulia Adamo, Giambattista Buffardecci, Cataldo Fiorenza, Rudi Maira, Livio Marrocco e Salvo Poiese, non è stato poi riscontrato il reato di peculato in determinati casi, ma questi ultimi non possono ancora dirsi salvi dal momento che insistono in altre vicende possibilità di vedersi contestato lo stesso tipo di illecito. Nella nota a margine della sentenza il motivo dei tanti prosceglimenti. Non è sufficiente che i deputati non abbiano giustificato le spese di fondi destinati ad attività parlamentari per procedere ad una loro condanna. È necessario, infatti, che si risalga in primo luogo la rendicontazione precisa di ogni centesimo impegnato, compreso di importo, data, soggetto della spesa, tutto con relativa documentazione contabile. Onere è questo della ricerca di tutte queste componenti che, secondo i giudici, non può che gravare sulla pubblica accusa. Tradotto in parole povere, devono essere i PM dell'accusa a scovare queste prove. Ma non basta. Per un'effettiva condanna del parlamentare indagato deve esserci prova che quella spesa sia stata diretta per seguire un fine non rispondente a quello istituzionale per il quale era stato in precedenza erogato il contributo. Requisiti minimi validi solo in sede penale, anche perché le condanne pecuniarie della Corte dei Conti sono già state ampiamente recapitate. Colpevoli per i magistrati contabili? Non abbastanza per quelli ordinari. Insomma, spettava i pubblici ministeri dimostrare che quegli iPad, fular, cene e banchetti non avessero poi nulla a che fare con alcuna attività parlamentare.